Mi veniva Harry Potter, invece no, allora, a quei tempi, quando scrissero questa, cosa sarà stato? Gli anni 50 almeno, no, proprio? Allora, a quei tempi, questo paesino della Palestrina, dove la gente viveva... Palestina, 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 no, perché la gente viveva e camminava tutta la... No, 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 quella è un'altra notte, un'altra notte. Allora, la gente di questa, il Palestino, a un certo punto, arrivò a razzolare il cane samaritano in mezzo a loro. Questo cane samaritano che mozzicava tutti quanti, no, e questa gente, la gente pacifica, si faceva mozzicare, non aveva niente. Fino a che, soluzione, è arrivato quello, no, quello, sai quello con la barba, quello che sembra quello dei bijis, come... Gesù? Bravo! Ma come bravo Gesù? La sai già? Ma, eh, eh, io vado via. Allora, c'era questo cane che razzolava lì, no? Gesù, prese il cane, lo spezzò. No, no, scusi, questo è un po' troppo, per quanto sia. Eh, don Gio Gioia, quella è l'uscita, quella è l'uscita, gentile. Lascia andare a volentare. Ma fatta male, grazie, portatelo via, grazie. Prenditi il tuo applauso. Andrea, dai, mi tolgo, sì, l'abito, ah no, il... Andrea Di Marco, che domani sera... Ma c'è anche il... Certo, domani sera, signor sindaco, che io l'avevo lasciato che l'assessore ha detto, buongiorno assessore. ... Grazie.